Nuovo traguardo per la coppia che ha lasciato il programma dopo una frequentazione altalenante. Per ora non è previsto un ritorno a settembre. Il 1 luglio, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno festeggiato i loro primi cinque mesi in coppia. Con una storia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, la dama di Uomini e Donne ha ringraziato tutti i fan che continuano a sostenere lei e il fidanzato anche dopo l'addio al programma. Visto che la relazione tra i due procede a gonfie vele, per ora si esclude un ritorno di entrambi in studio, se non come ospiti per raccontare come vanno le cose lontano dalle telecamere. Cinque mesi di voi è la scritta che compare accanto a un collage che una fanpage ha creato per Roberta e Alessandro il 1 luglio. La dama di Uomini e Donne ha ripostato questa storia sul suo account Instagram e poi ha ringraziato chi crede nella sua storia d'amore. Per Dipadua e Vicinanza è arrivato un altro importante traguardo dopo l'uscita dal cast del dating show al quale hanno partecipato per tanti anni. Dallo scorso febbraio i due sono fidanzati e si scambiano romantiche dediche sui social network sia quando non sono insieme, vivono e lavorano in città diverse, che quando partono per qualche vacanza. Tra gli spettatori erano in pochi a pensare che questa storia sarebbe durata, ma i fatti sembrano dimostrare il contrario, almeno per il momento. Che la relazione tra Roberta e Alessandro è seria lo si evince anche dal fatto che poche settimane fa i due sono volati a Formentera con il figlio di lei. Vicinanza ha conosciuto il bambino che Dipadua ha avuto da una storia precedente e con lui ha trascorso una vacanza tra relax e giochi in spiaggia. Sui social network c'è ancora chi è scettico su questo rapporto e lo paragona con quello che il cavaliere ha avuto con Ida fino allo scorso novembre. Ma lui non ascolta le critiche e va avanti per la sua strada. A dispetto di tante altre coppie di uomini e donne che si stanno separando durante l'estate, Emanuela e Marco Antonio, Maura e Gianluca, Alessio e Claudia, quella formata da Roberta e Alessandro sembra più solida che mai. Al primo e moluglio, Roberta e Alessandro rientrano nell'elenco dei personaggi che non dovrebbero far parte del cast dell'edizione 2024-2025 di Uomini e Donne. Nelle ultime ore a questa lista si è aggiunto anche Ernesto Russo, che ha svelato di essersi fidanzato con Marta, una 35enne che ha conosciuto nel corso di una delle tante serate che organizza. Anche Riccardo Guarnieri risulta impegnato con una ragazza che ha mostrato su Instagram lo scorso giugno, la stessa per amore della quale ha lasciato il parterre del trono over poco più di un anno fa.